Adabra dimmi dove ti trovi, sbrigati non vedi che sono malata? Che c'è? Cosa hai visto? Cos'è quel disegno? È un ottagono, non lo vedi? Un ottagono che significa? Che il posto ha qualcosa che vedere con un ottagono? Povera me come sono ridotta! E adesso cos'è quella lucina? Ecco, credo che siano i punti cardinali, indica l'est. Si trova ad est, può darsi, come faccio a saperlo? Novo la speedy! Ma sei matto, che modi sono questi? Figlia mia! Dovrebbe essere qui in giro! Si scende, tenetevi forte! Le persone anziane vanno trattate con dolcezza! Che ti prende? Qualcosa non va? Hai visto? C'è Oscar! Oscar, sei proprio tu? Perché sei qui? Che cosa ci fai da queste parti? Mi chiamo Giacomo, non Oscar. Eh? Ma tu che sei, scusa? Smettila di scherzare, non mi riconosci, sono Goku! Mai visto prima d'ora! Ehi, Kiki! Deve aver perso la memoria, perché non gliela rinfreschi? Ha sempre avuto un demone per te! Giusto? Comincia a stufarmi! Cosa hai da urlare, Giacomo? Eh? Urca! Ma come? Ci sono... Ci sono due, Oscar! Non capisco! Per fortuna sei uscito, Omar! Di a questo ragazzo che mi chiamo Giacomo e non Oscar! Non so perché, ma continuo a chiamarmi in questa modo e non riesco a convincerlo! Oscar? Aspetta un momento! Quando andavamo all'asilo, non c'era uno che è stato sbattuto fuori perché era stato maleducato con la maestra? Se non ricordo male, si chiamava Oscar! Già, hai ragione! Adesso che ci penso si chiamava così! Insomma, volete dire che mi sono sbagliato? Sì, ma non preoccuparti! Capita di prendere delle sviste! Sì, d'accordo! Anche se io non credo affatto di assomigliare a quello sbrufone, qui ad Ottagonville puoi chiederlo a chi ti pare! Ottagonville! Hai sentito? Eh? Ma allora siamo sulla strada giusta! Ascoltate, stiamo cercando il ventaglio di Basho! Per caso ne avete sentito parlare? Del ventaglio di Basho? Ma... Sì, sembra che sia magico! Mi dispiace, ma non possiamo aiutarvi! Noi conosciamo solo le terme di Basho! Le terme di Basho hai detto? Le famose terme che guariscono da ogni malattia! Certo, vengono da tutte le parti per curarsi qui! Che magnifica coincidenza! Senti, ti va di andare a farci un giretto? Che vuole portarla... Alle nostre terme! Verrei volentieri, ma non abbiamo tempo per queste cose! Siamo qui per il ventaglio, le terme possono aspettare! Lo so, ma se facessi un bel bagnetto nell'acqua termale, la mia influenza sparirebbe all'istante! E i miei poteri tornerebbero ad essere quelli di sempre! E riusciremmo a rintracciare quel ventaglio più in fretta! Hai sentito, Kiki? Andiamo a vedere queste terme! No!